È bastato un semplice temporale per generare allagamenti, strade infangate e tanto scompiglio nel quartiere di Arzilla. Il maltempo, verificatosi nella notte tra martedì e mercoledì, ha causato infatti innumerevoli danni in diverse vie della zona, creando tanto disordine e impedendo la normale circolazione dei mezzi. Una situazione insostenibile presente da tanti anni e gli stessi residenti del quartiere pesarese hanno manifestato il loro umore. Ci siamo trovati con una fiumana, nel vero senso della parola, che aveva preso il posto della strada, invadendo case, portando giù tanto di quel materiale da mettere paura. Abbiamo una casa qua all'altezza del consorzio che è stata allagata completamente sotto, con mezzo metro d'acqua. L'acqua che è venuta giù in via di Visione Messina, addirittura ha creato una diga naturale abbattendo il muro del recchio consorzio agrario. Io non so, per pochissimo non è entrato nelle 10-15 case che c'è qua. Allora non è possibile che noi dobbiamo sempre rimanere nel dimenticatoio e poi dopo farci sentire oppure le carci le ferite dopo che il fatto è avvenuto. Quali sono secondo lei le principali problematiche che hanno causato questa serie di eventi? Per me è la cattiva manutenzione delle acque che non vengono convogliate come devono essere convogliate. L'acqua è un elemento che genera forza, se tu la lasci libera lei rompe tutto. Questa situazione era già stata presente ma molti anni fa alle persone che comunque di dovere rappresentano il paese e che allora volta dovevano riferire a chi di dovere è competente per queste cose. Chiedo che comunque questa situazione venga presa in mano di coscienza a chi ha il potere di poter fare qualcosa, perlomeno aggiustare le cose, non come tutte le altre anni vengono sì sì, si fa, facciamo e poi non succede mai niente. Quindi un senso di responsabilità per chi si prende degli incarichi. Di fronte alle numerose segnalazioni presentate dai cittadini del quartiere di Arzilla è intervenuto il comune di Pesaro che inviando diversi operatori sulle strade interessate a posto rimedio ai disagi creati dalla forte pioggia. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, constatando che il fango che ha invaso la strada appartiene a terreni privati, risultati senza reggimentazione dell'acqua e senza manutenzione dei fossi. Gli assessori del comune di Pesaro, Belloni e Morotti, hanno fatto sapere che verrà presentata una richiesta di risarcimento danni.